19 attività commerciali in più nel centro storico di Pesaro, 8 aggiuntive invece nella zona mare. Un dato incoraggiante per quello che riguarda il movimento del commercio, un dato anche in controtendenza alla realtà fanese. Sì, in controtendenza rispetto ai nostri cugini fanesi, questo fa capire che Pesaro è ancora appetibile. Il discorso sull'apertura delle 27 attività e la durata. Se l'attività comunque si affiglia alle associazioni, siamo in grado di spiegare a chi vuole, a chi ha un'idea imprenditoriale, se è fattibile o no. Se uno fa tutto da sé, le possibilità di un rischio di morte prima dei tre anni, che normalmente è la media di un'attività nuova, il rischio è quello di perire velocemente se non fa un'indagine di mercato adatta al prodotto che vuole immettere all'interno del mercato. Appetibilità di peso, l'appetibilità anche del centro storico in tal senso? Il nostro centro storico è un centro storico che comunque negli anni ha mantenuto la sua vitalità. Con tutte le difficoltà del caso, con i lavori che ci sono, comunque il nostro centro storico è ancora vivo. Stiamo perdendo le attività autoctone e questa è l'unica cosa che ci preoccupa. Anche perché gli affitti nel centro sono elevatissimi e solo chi è padrone dei muri è in grado di poter resistere. Se invece hai un affitto che è un capestro al collo è difficile perché poi alla fine dell'anno sono soldi. Hanno aperto molti franchising e questi comunque portano vita. E questo ci fa ben sperare per il futuro. Grazie. 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 Grazie.